Rispetto alla opaca prestazione in Macedonia, dove avevamo conquistato un fareggio amaro e che aveva compromesso la qualificazione, la nazionale azzurra di calcio si va in maniera spomeggiante nella decisiva gara martedì a San Siro contro l'Ucraina. Un 2-1 comportante, prima vittoria della gestione Spalletti, ma anche la consapevolezza che il campo ha regalato una bella prestazione, sia per i gol, doppietta di Pratesi, che anche il brivido della rimonta ucraina. Sia in difesa che a centrocampo i ragazzi azzurri hanno tenuto bene, consapevoli che bisognava darsi una mossa e convincere la platea che avere bisogno di sostegno contava. E come? Ci riproiettiamo con il giusto piglio verso l'Europeo 20-24, un pochino più tranquillo adesso Spalletti. Ad ottobre contro Inghilterra e Malta potrebbe essere la svolta spallettiana per la qualificazione, sempre con i piedi per terra, ben saldi.